Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Il mondo della scuola vive settimane difficili. Nel periodo del lockdown, la vita, gli interessi dei bambini e dei nostri ragazzi, a gioco forza ha lasciato spazio a un'emergenza sanitaria che ha rimescolato le nostre priorità. Le stesse linee guida per la riapertura delle scuole a settembre anticipate dal ministro dell'istruzione Lucia Azzolina non hanno del tutto convinto docenti, amministratori e famiglie. L'obiettivo resta comunque quello di rientrare a scuola a settembre con tutte le misure di sicurezza del caso. Nelle scorse settimane abbiamo realizzato in collaborazione con SECAM la sanificazione di tutti gli spazi delle scuole della città, quindi sia le sedi dell'Istituto Comprensivo Garibaldi, dell'Istituto Comprensivo Bertacchi e anche dell'asilo paritario Immacolata. Stiamo lavorando con i dirigenti scolastici per un tavolo aperto proprio per un confronto in vista dell'apertura delle lezioni delle scuole per settembre in attesa della definizione di linee concrete, operative, chiare, che ci aspettiamo a breve da parte del Ministero per ripartire con le scuole sicure, sanificate e dare finalmente la possibilità ai nostri ragazzi di tornare sui banchi e imparare tante cose. Da non trascurare, oltre alle norme anti-Covid, la cura di edifici scolastici che in passato spesso sono stati troppo trascurati per motivi di ordine economico. Chiavenna gioca anche questa partita. Le scuole sono al centro dell'impegno dell'amministrazione comunale, intanto come cura degli edifici. Alle nostre spalle si vede l'avvio del secondo lotto, del cantiere sulla scuola Pestalozzi, per il rifacimento del tetto della palestra e la messa in sicurezza di una serie di aspetti. Nelle prossime settimane partiremo con un primo lotto di sostituzione dei serramenti, da diverso tempo richiesti presso l'Istituto Comprensivo Garibaldi e il primo lotto confidiamo nei prossimi anni di proseguire in questa attività. Un impegno quello di Chiavenna, comune e tante altre realtà di Valtellina e Valchiavenna che vedono, nella riapertura delle scuole a settembre, un passo fondamentale per il ritorno alla normalità e non solo quella dei nostri ragazzi.